Oltre un milione di euro dal programma regionale Fondo Sociale Europeo PLAS 2021-2027 direttamente dalla regione al comune di Pescara per un progetto di accompagnamento al lavoro e di inclusione attiva rivolto a cittadini in condizione di fragilità. Il progetto Azalea è rivolto a 140 persone e le domande partono da oggi direttamente dal sito del comune di Pescara e potranno essere inoltrate fino al 22 aprile. E di circa 1.300.000 euro la dotazione finanziaria e lo scopo è quello di favorire l'occupabilità di persone svantaggiate. Tra i partner anche l'Asda di Pescara e la CNA oltre a diverse associazioni e cooperative. Oggi aggiungiamo un altro tassello per quello che riguarda il lavoro e l'inclusione nel mondo lavorativo del mondo della disabilità perché abbiamo voluto aggiungere questa possibilità con il progetto Azalea di dare non solo alle persone svantaggiate nel mondo sociale ma anche a queste persone di poter immettersi nel mondo lavorativo. Oggi possiamo dire che una parte di questo progetto è riservato anche alla ASL del gruppo psichiatrico di Pescara dove alcuni ragazzi di questo settore possono far parte di questo progetto. Una prima lineazione prevede l'accoglienza, l'orientamento e il matching di questi 140 beneficiari. Sono 140 beneficiari per i tre ADS del Comune di Pescara, l'ADS 17 della Montagna Pescarese e l'ADS Vestino. All'interno di questo numero di beneficiari 40 sono però persone in carico al DSM dell'ASL di Pescara, nostro partner. Quindi le attività partiranno per queste 40 persone già individuate che andranno a prendere 340 euro mensili che sono l'importo della borsa lavoro. Le altre persone, quindi altri 100 destinatari da identificare tra le categorie fragili andranno a prendere 600 euro per 12 mesi. Chiaramente questa seconda azione verrà sviluppata dopo averli presi un'accoglienza, aver fatto un orientamento e un matching. Quindi abbiamo dei partner, un partenariato cospicuo affinché ciascuno possa trovare la collocazione lavorativa più adeguata, visto che stiamo parlando di un progetto che interessa categorie socialmente fragili.